video I'm the realest one that's rappin' oh my god oh my god if I die I'm a legend when they lay me down to rest I know I was always rappin' oh my god e io fiofiofio e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo a ottenere un nuovo video di Fortnite season 5 perché si finalmente l'Epic Games ci ha svelato qual è effettivamente la nuova season 5 quindi direi di andare a mettere subito una singola ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivate la campanellina e schiacciate il bel polliciano in su per nuovi video di questo genere detto questo mettiamo pronto e ci vediamo direttamente in game alla fine visto che singolo non vuole fare direi di mettere una bella copia e vedere se questa starta perché non sembra voler riuscire a startare ecco ce l'abbiamo fatta quindi questo video solo verso i duo vediamo quanto faremo con i cari farò cacare perché tanto faccio sempre schifo io ce l'abbiamo fatta ad entrare la gallo è fatta ovviamente come al solito tanto questo ormai è di norma avendo la wifi con i due cinesi allora solo verso i duo vediamo di non fare schifo dall'inizio scegliamo una terra del buono parco parco vai facciamo parco che almeno speriamo che è il tempo di lutare e che non ci siano già duecentomila persone contro diciamo se non c'è un botto di rinforzamento vediamo di lottare per il bens da casa non fare la fine dei polliciano via mia scappato scappato dammi la R adesso fino a chi scappa scappa prima chi l'ha andato scappa mia arma per ora la cappa pompa attacco questo è benissimo ho trovato anche il carico ma mi fa altamente cacare non si apriva la porta perchè stavo premendo il tasto sbagliato ovviamente scappato scappato disgraziato mannaggia a lui cilini sto sopravvivendo per il momento vabbè è ovvio che comunque non hanno armi c'è 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 prima partita andato ma da sempre da qua si passa ma a questo punto scelgo brugliere si va sul tranquillo anche perchè poi manco la città sono più o meno dove si trovi quindi lascò il raggio è molto pietoso però dettaglio devo sperare in questa casa ci sia un arco altrimenti si è rovinato pistola 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 oro cioè pistola non è male spare sto scindone con schifo mi ha visto c'era uno morta anche per st'altro oddio 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 ci vedo 44 non è ancora morto eh non è vero non è vero dai 2 kill dai questa me la verifersa a pantano vediamo di un po' che è questa volta mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia questo c'è una cappa buonissimo sto laggando tutto vabbè questo era anche scontato oh ha il pompa nuovo ho visto almeno di alame un infarto ho visto 10 anni ok è arrivato il momento di andare safe altrimenti se la safe mi prende non ho cure medical quindi direi di avviarci in realtà perché no no non si trova neanche così lontano dai oh idraietta leva intanto sento spari ma io ignoro tutto e tutti e non ne ho qui sopra io ho la cassa mattone vediamo anche i lagghi da parte sento spari oddio oddio metto malamente un minuto serra assolutamente assolutamente una kill così uoh terror 0-1 non è vero non è vero non è vero e anche questa è andata faccio l'ultimo peccato ovviamente era 2 kill se fosse se fosse morto questo aspettate più che altro domanda wifi recente boh mia idea pantano di nuovo resta pantano i possibili pantano mi sembra più fattibile tutte quelle possibili pantano mi sembra più fattibile più che altro perché c'è c'è un sacco non c'è non trova tanta gente vai no pantano appena atterrato colp vabbè sono di poi in safe tac stavolta lo prendo assolutamente prossimo Ok, attraverso il gioco. Non lo so. Perchè? No, ma non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. passi guarda e mori uno atterrato ho kill tanto la kill l'ho presa a 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 87 morti 4 kill aspettate questo è il contro mi sono affattato non voglio far cadere fatto era uno due a quell'altro oh non è vero da dietro da dietro no 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 dai 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 però così no no dai rovinale partito beh quindi per questo video è tutto spero vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale attivatevi istanti il tasto lampanellina mio instagram mio telegram mio tiktok qua sotto il descripito quindi la meraviglia no prossimo video ciao 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 Sous-titrage ST' 501